Da parte nostra c'è grande soddisfazione perché il Governo ha ascoltato e recepito le mie indicazioni e richieste, che erano quelle che poi sono contenute nel decreto, il 100% di risarcimento per la ricostruzione sia delle prime che delle seconde case di Amatrice. Qualcosa che non ha precedenti nella storia della Repubblica, è quanto dichiara il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi al termine della visita del Premier Matteo Renzi al Centro Operativo Comunale di Amatrice, nel corso della quale sono stati spiegati i dettagli del decreto legge post-terremoto appena varato dall'esecutivo. Durante il nostro incontro ha proseguito Pirozzi nell'esprimere a Renzi la gratitudine per questo obiettivo raggiunto o anche proposto al Presidente del Consiglio un'iniziativa che lo ha lasciato entusiasta. Intendo aiutare a detto il rilancio delle attività produttive del mio territorio, favorendo l'avvio qui ad Amatrice di un'azienda che produca il vero sugo all'amatriciana. Per questo chiedo a tutte le realtà imprenditoriali che abbiano interesse a collaborare in questo tipo di impresa di farsi avanti.